Milioni di persone attendevano la fine del mondo, non è stato uno tsunami, non il passaggio di virus, non la collisione con un asteroide grande come tutto il Texas, ma il cataclisma è avvenuto! Il giovedì è il nuovo venerdì. Messaggi rassicuranti alla popolazione a cura del collettivo virus. Collettivo virus dal bunker segreto messaggi rassicuranti per la popolazione dopo il cataclisma. Il giovedì è il nuovo venerdì. Se sono spostato un giorno della settimana poteva andare molto molto peggio, quelli che ancora fanno finta che il cataclisma non è avvenuto sono dei dietrologisti. Popolazione mantieni la calma. Terzo video messaggio, forse il più complicato di tutti perché andiamo ad attingere la tradizione secolare, popolare, culinaria del nostro paese. Prego il contributo dalla cucina del collettivo virus. Abbiamo da trattare l'argomento giovedì, gnocchi, venerdì, pesce e sabato tripa. Per quanto riguarda sabato tripa non abbiamo nulla da evincere, essendo un giorno che non ci interessa. Il cambiamento è il nuovo venerdì. Per quanto riguarda il giovedì gnocco non saprei a chi riferirmi. Per quanto riguarda il venerdì pesce invece potremmo pensare che la tradizione attinge da una tradizione cattolica. Quindi il video messaggio potrebbe arrivare a qualche referente del Vaticano, reparto alimentazione, qualche prete importante, qualche vescovo, qualche gerarca del Vaticano per comunicare che ci sarebbe da invertire lo gnocco al venerdì e il pesce al giovedì. Perché giovedì è il nuovo venerdì. Quindi, gentilmente, manteniamo la calma ma invertiamo le pietanze, mentre per il sabato tripa e rimane tutto com'è. Thursday is the new Friday. Terzo video messaggio concluso. Ricordiamo alla popolazione che l'incontro, il gruppo d'ascolto, avviene ogni giovedì sera al Circo Arci Oibo di Milano dove si parla dei nostri problemi. Sì, lo so che non è un gnocco, ma non ci troviamo in cucina, non è colpa mia. Mentre venerdì, giovedì pesce, venerdì gnocco, palato tripa. Buona tripa. Visual Guerrilla a cura dei licenziati della rivoluzione. Abbraccia il cambiamento. Visual Television. Il giovedì è il nuovo venerdì.